Questa settimana facciamo il Salmo 83. È un Salmo bellissimo, parla tutto l'essere. Sono sicuro che anche per voi, se lo conoscete, sarà così. Non ci sono più i Salmi di Asaf, ma dei figli di Core, che erano dei Levitium. Questi sono gli autori ispirati che hanno scritto il Salmo. Comincia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Signore degli eserciti è un appellativo molto usato, che non significa dei soldati, ma delle potenze che sono dentro e fuori di noi. Ne abbiamo parlato di questi nemici che sconvige. Quindi, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Fermiamoci un poco qua. Le dimore del Signore. Dove abita Dio? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 18, i discepoli domandano a Gesù, dove abiti? Dice, venite, seguitemi. Questo seguire Gesù significa scoprire qual è la casa dove abita Dio. Gesù abita nel seno del Padre. Io e il Padre. Siamo una cosa sola. È una rivelazione che Gesù ha fatto. Nel seno del Padre, che significa nel grembo, è come la mamma che porta il bambino nel suo seno, nel suo grembo, all'interno, dentro. Una vita dentro una vita. Giovanni, il discepolo amato dal Signore, posa il suo capo sul petto, sul seno del Signore, sul petto del Signore, sul cuore del Signore. Come Gesù è nel seno del Padre. Giovanni, voi lo sapete, sotto la croce, assieme a Maria, riceve dal Signore queste parole. Ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. Noi siamo, diventiamo in Gesù. Partecipi, come Gesù, nel seno del Padre. Giovanni 17, dice io e il Padre siamo una cosa sola. Giovanni 13, 25, dice lui è il Tempio, lui è la casa. Essere Giovanni, che rappresenta tutti noi, essere un'unica cosa nel cuore di Gesù, con Maria, nel seno del Padre, con lo Spirito Santo che lui promette, lo vedremo nei versetti che seguiranno. Continuando il versetto 4, anche il passero trova la casa, la rondi, il nido dove porri i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Dio ha creato tutto per una casa, anche le più piccole creature hanno un nido, hanno una tana, una casa dove si rifugiano. Per i cristiani, come per Gesù, questa casa non è fatta di mattoni. Infatti Gesù dice, le volpi hanno le tane dove rifugiarsi, gli uccelli hanno il nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, non ha una casa materiale. Ogni cristiano autentico sa benissimo che la propria casa non si trova sulla terra, quella dove non scade l'affitto della vita si trova nel cielo, quella è la vera casa. Quella casa è Dio vivente, è Gesù vivente che abita nel seno del Padre in un'unica cosa e la meraviglia è che noi ne facciamo pienamente parte. Poi nel versetto 5 dice, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Nel versetto 5 e il versetto 6 ci sono due beati, beato chi abita la tua casa. Questa casa è Gesù, questo tempio che lui stesso ha definito in Giovanni 13, 25, dice distruggete questo tempio e io in tre giorni lo riedificherò. E nel Vangelo c'è scritto, ma lui parlava del tempio del suo corpo. Il suo corpo è un tempio, è una casa, è la casa di Dio dove noi siamo chiamati ad abitare. Chi abita questa casa è beato, dice il versetto 5 e nel versetto 6 dice ancora una volta, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Una volta che tu hai capito che significa abitare questa casa, l'altra beatitudine è decidere come camminare in questo mondo. Voi lo sapete, questo mondo non è fatto di strade spianate né fatti di rose e fiori, ma è spesso fatto di difficoltà, a volte veramente grandi, che senza una forza particolare non ce la faremo. Qui c'è un'altra beatitudine che tocca chi ha deciso di seguire Gesù, chi trova in te, quindi trovare in lui la forza per poter camminare giorno dopo giorno affinché il viaggio nostro sulla terra diventi un santo viaggio. Ma questo santo viaggio è che tappe percorre? Guardate che bello il versetto 7, dice passando per la valle del pianto, quindi c'è questa immagine della nostra vita come un viandante che passa diversi contesti. Qui parla della valle del pianto, in un altro salmo parla di una valle oscura, dice signore il mio pastore non la mi manca, poi dice anche se passassi per una valle oscura non ho timore perché sei con me. Qui parla di una valle del pianto che mi pare che somiglia alla valle oscura, però guardate che dice, la valle del pianto la cambia in una sorgente. In Matteo, a proposito di queste croci che a volte ci spezzano le spalle, ma Gesù in Matteo 11, 25 dice, prendete il mio gioco, prendete la mia croce sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Ognuno di noi ha la propria croce. Nel libro dell'Apocalisse viene detto che ad ognuno di noi viene data una pietruzza bianca nella quale c'è scritto un nome che solo chi la possiede conosce. Questa pietruzza bianca è il granello di sale che veniva dato ai battezzandi, amarissimo nella bocca naturalmente, ma poi produceva una dolcezza nella bocca. Il sale veniva usato da coloro che attraversavano il deserto per evitare di morire disidratati. Quella pietruzza bianca li preservava dalla morte sicura. Vedete tutti gli agganci biblici che ci sono? Gesù dice che c'è un modo per passare indenni dalla valle del pianto. È come cambiare il pianto in una sorgente. Gesù parla di sorgente di acqua viva, che è appunto il dono dello Spirito Santo, con i suoi sette doni che si contrappongono ai sette peccati capitali di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Questo è in Giovanni dal 37 al 39. Anche la prima pioggia, la manta di benedizioni, stiamo parlando sempre dello Spirito Santo. Camminando con queste verità, nel versetto 8 c'è scritto Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Avviene un fenomeno opposto a quello che succede nell'uomo della carne. Più tempo passo, più uno invecchia, diventa sempre più debole e si va disfacendo il proprio corpo. Però per il cristiano avviene un fenomeno strano. Mentre il corpo si va degradando, l'uomo interiore, la nostra anima eterna, dice che si rinvigorisce giorno dopo giorno, diventa sempre più forte, sempre più giovane, sempre più bella. Dice ma possibile mai? Sì, vai a leggere la lettera ai Corinti, al capitolo 4, al versetto 16, che ti dice proprio così. Mi dispiace che molti non conoscono la Bibbia, ma ci sono tanti segreti, tanti segreti, cosicché io che comincio a avere la mia età, sto diventando giovane, ragazzi. A parte l'ironia, ma dico che è vero, è vero. Io dentro di me la sento, questa giovinezza la sento e non l'associo alla mia età. Versetto 9, Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio Dio di Giacobbe. Ecco, questa è una invocazione, una supplica, come spesso abbiamo visto in altri salmi. Questa invocazione che sale dal nostro cuore, desideroso di Dio, come una cerva nela ai corsi delle acque, così l'anima mia sete, del Dio vivente. Desidera te la mia carne. Quindi, anche il nostro corpo desidera incontrarsi con questa pace profonda, con questi segreti che trasformano il pianto in sorgente. È stupendo questo, questo anelito di colui che prega e ha assaggiato un po' che significa quest'amore meraviglioso di Dio. Continuando, dice, perché per me un giorno nei tuoi altri vale più che mille altrove. Perché Gesù ha preso il nostro corpo e è diventato casa per noi. Gesù ci ha colti nel suo seno, come Giovanni. Noi siamo chiamati ad appoggiarci sul seno di Gesù. Proprio quando siamo più afflitti, più sconsolati, più feriti, appoggiamoci come Giovanni sul petto di Gesù. Troveremo grande, grande consolazione perché Lui accarezzandoci ci dirà, non ti preoccupare, prendi questa tua realtà. Non è per la tua morte, non è la sofferenza per la sofferenza, no. Quello che stai vivendo ti sta formando, ti sta facendo crescere. Ha una funzione. Non ti preoccupare. Io ho detto ai miei discepoli, era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse, era necessario, non è stato un capriccio. E io dico per me e per voi, ma era necessario che tu dovessi passare quello che è passato o che stai passando adesso. Non ti preoccupare perché c'è un disegno nella tua vita. Fidati di Lui. Infatti, qui dice nel versetto 13, Signore degli eserciti, beato l'uomo, e questa è la terza beatitudine di questo Salmo, beato l'uomo che in te confida. E allora confida nel Signore, nella realtà che stai vivendo. Confida nel Signore, perché Lui ha cura di te, come dice nella lettera di San Paolo. Perché tu sei caro al suo cuore. Confida in Dio e non rimarrai deluso.